La Virtus Entella deve provare a recuperare terreno dopo un inizio di campionato molto al di sotto delle aspettative. Nessuna vittoria, due soli punti e ultimo posto in classifica dopo le prime cinque giornate. Due soli gol fatti e prestazioni al di sotto delle possibilità della Rosa Bianco Celeste, che dopo la sconfitta con il Sesti Levante hanno causato l'esonero dell'allenatore Volpe. Da nove giorni sulla panchina chiavarese siede Fabio Gallo, che in vista della trasferta con la Cararese, per la prima volta ha potuto lavorare con la squadra per l'intera settimana. Sicuramente il poter lavorare con un po' di continuità ha fatto sì che io potessi conoscere meglio i giocatori e loro conoscere me. Abbiamo lavorato, abbiamo cercato di mettere dentro il più possibile, se sotto l'aspetto fisico o se sotto l'aspetto proprio dell'organizzazione, poi dopo c'è sempre l'esame della partita. La Cararese ha iniziato bene la stagione, con dieci punti e il quarto posto in classifica. Leggero calo nelle ultime due, con la sconfitta contro la Torre Escapolista e il pareggio a Olbia. Al di là del momento difficile della Virut Centella, si prospetta una partita ostica. Mi aspetto una partita di ritmo, di temperamento, ma anche di qualità, perché ripeto, la Cararese ha giocatori di qualità, ha giocatori di temperamento, ma anche l'Entella ha giocatori che devono far vedere quelle che sono le proprie qualità tecniche, tattiche, ma soprattutto morali in un momento dove bisogna tirare fuori tanto di quello che si addentra. Gallo ha avuto parole molto dure per la sua squadra dopo la sconfitta per 2-0 con la Vispesaro alle Zordia in panchina. Adesso, dopo un po' più di tempo di lavoro con i giocatori, spiega di avere le idee più chiare. Sicuramente ho in testa quello che vorrei fare, ho qualche dubbio e quindi mi riservo, mi prendo tutto il tempo possibile per poter decidere. Grazie. Grazie.